allora devo fare un paio di premesse prima di cominciare con questo contenuto più che altro perché sicuramente vi starete chiedendo che fine ha fatto il buon Fabio dice ci stavamo aspettando anche il suo parere non solo su Fiorentina-Roma ma anche in realtà sul derby d'Italia tra Inter e Juventus e la verità è semplicissima che io come sempre ragazzi l'ho contattato e gli ho chiesto di registrare in un unico contenuto il suo parere su queste due partite si è incazzato ma ha risposto male non perché ovviamente ce l'avesse con me ma talmente era incazzato visto che gliel'ho chiesto poco dopo la fine della partita ma riattaccato in faccia e non ci ho avuto il coraggio neanche di richiamarlo quindi vi chiedo di avere un po' di pazienza tempo che il buon Fabio sbollisca la rabbia e appena sconfitta del genere, appena partita del genere credo che ci vorrà ancora un po' ma credo che in giornata, in serata probabilmente finalmente uscirà anche il suo parere perlomeno spero, altrimenti non lo so rimandiamo al giorno successivo se ve lo volete, scusatemi, recuperare ve lo recuperate se no ragazzi pazienza io non c'ho il coraggio di infierire e di chiedere con insistenza detto questo c'è comunque da parlare di Juric che ha rilasciato alla fine ho ceduto e sono andato a leggere ovviamente non l'ho voluto vedere in faccia non l'ho voluto ascoltare mentre lo diceva mi sono andato a recuperare la trascrizione della chiamiamola conferenza ma so le parole che ha detto a studio a studio da son e in realtà ragazzi non ho già stancazzato di per sé per il risultato che è maturato però poi leggi determinate cose è ovvio che te incazzi ancora di più io purtroppo non sto non sono nelle condizioni di potermi arrabbiare perché durante la live reaction mi sono sentito male verso la fine della live reaction mi sono sentito male per fortuna quando la partita era stava per terminare era terminata e non posso fare non sto scherzando non posso fare sforzi non posso arrabbiarmi non posso come si dice alzare neanche la tonalità della voce giusto per farvi capire come sto come sto ridotto ma ci tengo a portarvi questo contenuto perché ci tengo a dirvi a dirvi la mia se volete lasciate like per supportare questo genere dei contenuti non costa niente è gratis la live reaction altra cosa prima che mi dimentico ve la porterò devo solo trovare il coraggio di editarla di mettere tutti i bip che ci stanno da mette io non c'ho gente non pago gente che me fa che me edita i contenuti tutti i contenuti che vedete editati è tutto lavoro tutto lavoro mio quindi abbiate pazienza uscirà uscirà anche quello dopo la trasferta in casa della Fiorentina mister Juric ha risposto alle domande dello studio da son e queste sono state le parole dell'allenatore mi hanno detto che succede cazzo le domande che fai che succede ha preso al culo ecco che succede ci ha fatto mettere al culo a tutti quanti quelli che ti fanno Roma ecco che succede pure una mosca rompe i coglioni ci mancava stasera abbiamo fatto pensavo dicessi abbiamo fatto una prestazione incredibile pazzesca ci sono mancati solo 5 gol per battere sta Fiorentina perché da questo ci si aspetta veramente la faccia come il culo di fare dichiarazioni anche di quel tipo quindi devo anche apprezzare il fatto che alla fine abbia ammesso che oggi non c'è sta niente da salvare ma perché probabilmente è talmente palese che non se ha capito che non poteva avere la faccia come il culo fino a quel punto di denegare un'evidenza come ha sempre fatto finora poi se veramente crede a quello che dice io arzo le mani gli faccio un applauso perché ci crede solo lui a quello che dice e pochi altri stasera abbiamo fatto tutto sbagliato finora abbiamo fatto abbiamo fatto sette partite molto concentrati con l'Elfsburg soprattutto eh sì e poi anche con la Dinamo l'ultima una concentrazione guarda hai giocato da solo praticamente con delle buone prestazioni stasera abbiamo sbagliato tutto sia nel gioco sia nell'atteggiamento come se avessimo dimenticato questi 40 giorni di lavoro non me l'aspettavo perché venivamo da belle perché venivamo da belle prestazioni che dimostravano solidità invece oggi è stato tutto sbagliato secondo me questi 40 giorni di calcio spettacolo di lavoro e di cose clamorose secondo me si è costruite dentro la sua testa io altrimenti non non comprendo ragazzi cioè questo continuare questa è una cosa che mi infastidisce anche perché poi arrivati a sto punto ragazzi io sto a registrare che è mattino praticamente è il giorno è il giorno successivo o quasi e ancora non è arrivata notizia dell'esonero dei Juric quindi mi viene da pensare che non è che questo lo tengono veramente che non lo mandano via e sta cosa mi fa mi fa rabbrividire se poi leggo che lui comunque continua a a premere sull'acceleratore acceleratore del la squadra sta facendo bene indica è fortissimo in top player è cristante c'ha l'intelligenza fuori dal comune c'ha i superpoteri e su Selic non oso immaginare che cosa dirà probabilmente dirà che 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 è un misto tra Dani Alves e Roberto Carlos anche se Roberto Carlos giocava giocava a sinistra perché mi posso aspettare veramente di tutto allora ho visto il doppio che gli dicono ho visto il doppio cambio al trentesimo non ti piaceva quello che avevi visto o volevi dare una scossa qual è stata la tua lettura sono rimasto molto male lui è rimasto molto male sapessi noi le bestemmie tre giorni fa contro la Dinamo abbiamo fatto una partita molto beh mamma mia ragazzi ogni volta che ripenso a quella partita con la Dinamo mi esadrizza il cazzo ragazzi rimango con il durello per otto ore di fila che manco non lo so io cioè tra trent'anni quarant'anni quando ce ne avrò bisogno manco il Viagra mi farà tutto st'effetto cioè dei durelli clamorosi per la partita contro la Dinamo che che veramente guarda mi va al cazzo in Dinamo mi va guarda ma vaffanculo va scusate ho visto tante brutte cose ah no aspetta aspetta e oggi ho visto abbiamo fatto una partita molto bella e oggi ho visto pochissima concentrazione pochissima pochissima ed è stata nulla la concentrazione e l'attenzione ho visto tante cose brutte specialmente in fase difensiva specialmente in fase difensiva perché non esisteva un centrocampo perché in attacco che cazzo hai fatto perché Cone ha fatto quel tiro di merda c'è stato un atteggiamento che non mi è piaciuto ho scelto di cambiare sia per dare una scossa sia per dare un segnale quindi la stessa cosa per dare un segnale praticamente non perché stessero secondo lui facendo cagare più di tutti Cristante e Anghelinio ma per una motivazione tecnica ho visto delle cose che non mi sono piaciute ma per una motivazione tecnica ho visto delle cose che non mi sono piaciute e non solo da loro due Cristante e Anghelinio ma da tutta la squadra infatti mi poteva buttare fuori tutti però io 5 cambi in lui mi sarei bruciati tutti quanti insieme tanto persa mi è persa nelle ultime sette partite avevamo preso solo 5 gol sì ok e quanti ne hai fatti nelle ultime sette partite giusto per sapere quanti gol hai fatto nelle ultime sette partite subendo pochissimo avendo il possesso palla cioè questo mi sembro io a 15 anni quando giocavo a pallone e andavamo a giocare con qualcuno che ci esustava perdevamo 5 a 2 5 a 3 a calcetto tutte le scuse le trovavo io faceva freddo le pizzicavo al culo uguale paro paro ha cominciato pure lui capito poi Murigno quando trova le scuse è un pezzo di merda quando le trovano l'altri non è niente subendo pochissimo avendo possesso palla cioè sta ammette tutto il risalto tranne che i risultati capito va bene il possesso palla subendo pochissimo hai preso solo 5 gol però non dice quanti in affatti quante partite hai vinto quante partite hai steccato no cercando di migliorare in fase realizzativa ah cercando di migliorare in fase realizzativa no no è stato onesto che era quello che mancava in queste partite per fare più punti stasera è stato tutto sbagliato da parte di tutta la squadra ci sono poche scuse poche cose da dire in questo momento beh già che te sei presentato davanti a telecamere io fossi in te non mi sarei proprio presentato e mi sarei direttamente dimesso vi dico la verità io persona dei panni dei Juric che allena la Roma e che se ritrova a venere una situazione del genere significa che sei stato il primo a fallire ci sono stati allenatori che hanno retto un bel po' più di te prima di fare una figura di merda del genere ed è grave perché con te arriva da 40 giorni dopo una quarantena è bastata e ti ho detto tutto per la prima figura di merda stagionale hai inaugurato e già dei mezzi figure di merda l'1-0 con l'Elfsburg contro una squadra che inserisce in piedi che non sanno manco loro come stanno là per dei 1-0 per me è un'altra figura di merda non dico al pari di questa ma se vai a guardare dislivello tra Fiorentina e Elfsburg sono 1-0 con loro in casa loro e ok quindi ne ha prima bene poche cose da dire in questo momento abbiamo quasi finito vedi le caratteristiche giuste a livello difensivo per il tuo tipo di cal se una squadra prende solo 5 gol in 7 partite pure con degli errori grossolani in certe situazioni e subisce pochissimi tiri vuol dire che ce la fa alla grande ho visto stasera ho visto ieri sera ho visto ho visto infatti come come sei stato granitico come a tratti sembrava stessimo a giocare 7 contro 11 come prendevi le imbarcate in contropiede che io penso se prendevi una squadra leggermente più organizzata dalla Fiorentina perché mo non voglio manco far passare la Fiorentina per la migliore squadra del mondo ma se prendevi per Barcellona che l'altra sera ha rifilato 4 fischioni a Real Madrid se prendevi una squadra più forte della Fiorentina io penso che finiva 13 a 0 e a sto giro a quel giro io sarei andato all'altro mondo è sicuro al 100% il mio cuore non avrebbe non avrebbe detto non so manco come ha fatto a Regge in questa situazione poi vedrete la live reaction quello che c'ho il coraggio ti mette non so se c'ho il coraggio ti mette tutto perché alcune cose vanno censurate pesantemente e non so neanche se c'ho il coraggio alcuni pezzi anche censurati non so se c'ho il coraggio di metterli e non aggiungo altro se una squadra prende solo 5 gol in 7 partite pure con degli subisce pochi vuol dire che ce la fa la grande me coglioni oggi abbiamo preso dei gol ridicoli ah ciò sai allora se una squadra in 7 partite fa sempre bene sono dei giocatori che hanno certe caratteristiche oggi non sono stavo a cercare di rileggermi nella mente quello che stavo a dire oggi non sono stati concentrati capitano delle partite così ma sempre alla Roma succedono ma perché l'artresqua ma perché la Lazio ogni tanto potrà capitare anche a Milan Inter e Juventus ma perché a ste squadre si contano sui dita di una mano storicamente perché alla Roma non bastano 10 mani per contare tutte le figure del merda che fanno me la spiegate sta cazzo di cosa perché io veramente vado ai matti se ripenso a tutte le figure del merda che ho fatto da quando sto su youtube sono a marea ma poi torno indietro me ne ricordo tante altre oggi non sono stati concentrati capitano le partite così succedono anche alle grandi squadre penso all'Atalanta si ok te vuoi veramente paragonare l'Atalanta tu adesso tu non sei neanche il pelo pubblico dei Gasperini speriamo che sia successo tutto oggi sempre questo vive l'esperanza bisogna ripartire e migliorare e da queste parole si capisce e se intende che lui ha intenzione di andare avanti e ha anche rilasciato altre dichiarazioni non so dove boh l'avevo letto sull'Ansa da qualche parte in cui dice non ho mai pensato di dimettermi non ho nessuna intenzione di dimettermi vabbè ovviamente ma questa adesso non è una questione di esordi questo ce l'ho proprio rimane sulla panchina questo gli piace proprio fancazzare a gente questo ce l'ho proprio fa odiare cioè proprio arriva al livello superiore di odio perché non gli è basta manco più il punto in cui è arrivato cioè non la sente l'aria che già è pesante da quando è arrivato praticamente però comunque poi appena arrivato uno dice vabbè hanno scelto lui cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte poi partita dopo partita man mano che la situazione si è livellata su questo livello ma non percepisci dall'altra parte che veramente non te vuoi nessuno ad oggi dopo sta sconfitta secondo me non te vuoi più nessuno ma non percepisci ma non te infastidisce non te senti toccato nell'onorabilità nell'orgoglio nel dire forse quasi quasi è meglio che me faccio da parte no ragazzi bisogna ripartire e migliorare perché la zona salvezza adesso il nuovo obiettivo ovviamente è diventato la salvezza e la proprietà ovviamente avalla quella che è che è la nuova situazione che si è venuta a creare no si può con Juric è quello giusto per vincere i trofei ragazzi voi non avete capito un cazzo è stato preso Juric per vincere i trofei subito perché De Rossi non era all'altezza e probabilmente è vero che non era all'altezza Juric però se vede che sta migliorando la situazione le cose stanno andando bene c'è la media inglese c'hai c'è in punto a partita c'hai la Fiorentina sta a 16 tu sei rimasta a 10 con tutto rispetto per la Fiorentina si sente in discussione sapete come è il calcio in 40 giorni si è fatto un grandissimo lavoro mamma mia ragazzi un lavoro della madonna cioè guarda che postate proprio chiunque che abbiamo buttato tutto via oggi questa è la mia sensazione la solidità il gioco i giovani che crescevano e facevano delle belle prestazioni i più vecchi che sembravano tornati ai livelli del passato ma davvero l'ha detto cioè davvero ha detto i vecchi che sembravano tornati ai livelli del passato ma io non c'ho parole ragazzi e ripeto oggi abbiamo buttato via tutto mi dispiace molto ma sapete come va il calcio decidono gli altri noi lavoriamo il resto dell'idea a ridaglie questi 40 giorni di merda che in 40 giorni questo ha scambiato a Roma la Pasqua abbiamo morte via crucis e resurrezione in 40 giorni abbiamo fatto tante cose buoni oggi non me le aspettavo lui oggi in sala aspettava ma perché allora io me l'aspettavo perché io mi aspettavo non mi aspettavo una figura di merda vi dico la verità ma perché mi aspettavo una sconfitta oddio nell'esatto momento in cui abbiamo preso il secondo call ho cominciato a pensare che avremmo fatto una figura di merda questo c'è da dirlo perché l'ho pensato perché conosco i polli perché conosco la squadra perché so che sono capaci di fare queste figure di merda però a bocce ferme no ragazzi a bocce ferme lo vedrete nella live reaction poi ho modificato il pronostico in corso d'opera gli ho detto che perdevamo ma ero convinto che avremmo perso sta partita e c'è sempre devono sempre alzare l'asticella perché se t'aspetti che vincono pareggiano o perdono se t'aspetti che perdono perdono pure peggio di quello che t'aspettavi aver tolto Cristante può essere un segnale forte per lo spogliatoio questo è un gruppo di giocatori aveva detto due giorni fa che Cristante c'è un'intelligenza fuori dal comune questo è un gruppo di giocatori non troppo lungo è un gruppo di giocatori non troppo lungo lo sai per quale motivo e qua ovviamente le responsabilità c'è la dirigenza perché quando tu devi scegliere tra il Sharawi è rotto sulla fascia di competenza Zaleschi è stato addirittura reintegrato perché era stato buttato fuori dal cazzo dai coglioni quando tu devi scegliere diciamo un interprete sulla sinistra e c'è solo Angeligno e Zaleschi tu compri Dal e Dal 21enne non viene preso e non viene fatto sentire un calciatore che fa parte del contesto mi è venuto in mente l'esempio di Dal ma potrei fare l'esempio dall'altra parte di Abdul Hamid che per necessità e urgenza è stato utilizzato in un'occasione e mezza perché poi alla fine chi gioca? gioca chi fa danni? Selic gioca e lo avete rivisto in un'ulteriore partita non sono voluto entrare nei meriti poi dei danni che ha fatto Selic perché se io fossi entrato nel post partita e anche se non mi sbaglio nel pagellone non ho parlato troppo perché ragazzi rischiamo veramente dal punto di vista fisico quindi ho completamente rimosso e ho fatto finta di non sapere ma se devo rientrare nei meriti dello schifo che ha fatto Selic all'interno di questa partita dice ne scampi e liberi e poi ecco non li fai giocare con i giocatori una squadra come la Lazio una squadra come tante altre squadre anche la stessa Juventus chi c'è a disposizione sulla destra chi manca? famo giocare ragazzino facciamo giocare lui facciamo giocare a Savona questo è la differenza è questa tu compri dal per non farlo giocare per lasciarlo là perché non lo reputi pronto i giocatori di esperienza importanti come Hummels li tieni in panchina a marcire Abdulhamid lo fa giocare una volta e mezza poi il titolare danni o non danni è Selic punto basta e stop e questa è la differenza l'unica nota stonata in mezzo a tutto sto scempio è Pisilli ma sta a fare talmente prestazioni importanti è talmente bravo a prescindere dall'ultima che è uscito fuori da sé ragazzi non Iuri ce n'ha fatto niente è costretto questa è la differenza tra una squadra che come la Lazio per esempio che quando non c'ha Zaccagni fa giocare Noslin e c'ha Shauna e c'ha delle Bashiru tutti quelli che compra quando gli eservano li butta nella mischia il difensore Chico magari l'ha fatto esordì un po' in ritardo l'ha fatto giocare meno però quando c'è sta da mettere nella mischia non si inventano la luna i calciatori li fanno giocare e se li fai giocare li fai sentire parte del progetto te rendono i calciatori se tu Dalla continui a farlo marci in panchina quello pensa ad essere una pippa diventa sempre più pippa e quando chiami in causa più partite passano più lo fai giocare non lo fai crescere o fai decrescere e questa è la differenza perché Dalla ne hai preso e ne hai mannato in prima era di vatta a fare le ossa e poi ritorni qua sta in prima squadra sta in panchina a fianco mi ricordo di chi l'hanno quadrato cento volte hanno un quadrato non lo consideri ne esiste e questa è la differenza questo è un gruppo di giocatori non troppo lungo e lui ci ha colpe ma fino a un certo punto però magari dagliela la possibilità svegliate tutti devono essere partecipi infatti abbiamo visto hai figure di merda tutti sono partecipi hai fatto entrare a tutti sempre tranne Dalla devono essere dentro i vecchi e i nuovi non devo mandare dei segnali in quel senso io guardo le prestazioni chi si alena bene chi gioca bene avevo scelto Brian perché fino ad adesso aveva fatto delle buone prestazioni ma è colpa tua che gli dici che c'è l'intelligenza fuori dal comune questo si sente Gesù Cristo on terra si sente pensa che può fa tutto e poi questi sono i risultati stessa cosa con Dica l'ho detto e lo voglio ribadire in Dica il top della difesa può diventare un leader nove minuti dopo che l'ha detto perché da quando l'ha detto dice sì sono passati un paio di giorni ma la partita dopo nove minuti se fa soppa come un birillo da Ken ragazzi in Dica questa è la differenza della piazza Roma rispetto alle altre piazze che gli allenatori non sanno quando devono parlare e quando si devono star zitti sono cose che ragazzi non so io che parlo sul web che parlo dei Juric che parlo dei Cristante perché se i carciatori stanno veramente a dare retta a quello che diciamo noi sul web c'è un problema serio perché questi vengono pagati milioni a prescindere dalla visibilità che ho io la visibilità che hanno altri miei colleghi ma questi vengono pagati milioni per scendere in campo per fare partite davanti a un pubblico di 60 70 50 80 65 mila spettatori sarebbe un problema serio ma se l'allenatore che parla e dice cose del genere se gliele dici in positivo anche perché lui parla solo in positivo dei carciatori non sta a fare dal punto di vista strategico questa strategia non sta a funzionare ci sta a portare ma in serie B ci sta a portare questa strategia continua a esaltare i giocatori invece che magnatteli dentro gli spogliatoi e a dire che fanno schifo che manco in serie C possono giocare questi che se oggi come oggi si affrontammo la squadra in serie C ci rompono il culo pure quelli ci rompono il culo avevo scelto Brian perché fino ad adesso aveva giocato bene aveva fatto delle buone prestazioni è uno stabile e ci dà equilibrio ho visto infatti che cazzo di equilibrio che ci ha dato ha dato la Fiorentina e l'equilibrio oggi ha fatto una brutta partita la Roma oggi non può perdere giocatori né giovani né vecchi ma deve tirare fuori il massimo a tutti quanti e il problema è che io comincio a capire che purtroppo il massimo è questo il massimo dei giocatori della Roma è questo e sta cosa mi fa girare veramente il cazzo chiudo il contenuto come l'ho chiuso forse proprio il post partita a prescindere te mannano via non te mannano via a me la cosa che più me preoccupa è proprio questo gruppo è proprio questa squadra sono proprio questi carciatori perché io sono convinto che pure si arriva Guardiola che non arriverà mai ma si arriva Guardiola siamo capaci di far figura di merda pure Guardiola guardiola